Dunque, come tutti sappiamo, gli umani possono essere delle creature molto curiose. Trascorrono una parte sproporzionata della loro giornata a guardare foto di gatti, come questa. Ma mentre ritraggono il felino infagottato come un burrito, non hanno alcuna intenzione di mangiarlo. Qualcuno sa dirmi il perché? E a noi che cosa importa? Magari un giorno potremmo voler vivere in mezzo agli umani, per questo è importante capirli.